Per chiudere questa Top 10 del 2014 ho deciso di scegliere un brano al di fuori della musica che suono io personalmente come DJ o che magari consideriamo più da club, elettronica, un singolo che ha identificato il successo di un artista che secondo me ancora può arrivare alla massa. Si chiama Chad Faker, arriva dall'Australia e c'è un legame con la nostra scena perché in realtà è stato scoperto da un'etichetta discografica, la Future Classic, che normalmente produce musica underground. Lui però con pochissimo tempo, era una cosa che dicevamo all'inizio, grazie un po' al web e grazie al passaparola ma anche e soprattutto alla forza della sua musica che io chiamerei soul contemporaneo, via anche sempre per usare i termini facili e comprensibili, ha avuto un successo strabiliante che ormai lo porta ad essere lì come uno dei potenziali nuove star proprio del mercato pop diciamo, più globale. E quindi Chad Faker, Gold. Grazie a tutti. Grazie a tutti.